Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché nell'ambito di una operazione antidroga all'alba di questa mattina i carabinieri della compagnia di Pescara hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, tutti particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Maggiore Scarponi, droga destinata alla Pescara bene, alla movida dell'estate pescarese, avete tratto in arresto dei cittadini sudamericani? Sono state eseguite delle misure cautelari su Pescara, destinatari dei cittadini sudamericani i quali sono stati individuati, quali detentori e spacciatori di stupefacenti, ingenti quantitativi di cocaina. Parliamo di droga, indagine partita nel novembre scorso, questa mattina nel corso di nuove perquisizioni, avete recuperato anche dei contanti? L'attività è iniziata con un arresto in flagranza con un grosso quantitativo, oltre mezzo chilo di stupefacente, in gran parte cocaina, oltre ad hashish e marijuana. Dato il grosso quantitativo di droga e dato le modalità di detenzione in ovuli, si è deciso di approfondire e questa mattina si è giunti alla conclusione dell'attività che ha permesso di individuare i complici dell'arrestato. Una delle persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare però è al momento irreperibile? Sì, uno dei destinatari, un altro cittadino sudamericano è irreperibile. Nell'attività condotta questa mattina all'interno dell'abitazione di uno degli arrestati sono stati trovati 12.500 euro confezionati in bustine di plastica e all'interno di un peluche nascosti. Ancora cronaca, scegli la tua arma, scegli la tua morte, ti taglio la testa, ti ammazzo. Il tutto ripreso in un video inviato all'ex moglie, girato davanti ad una vetrina di un negozio di armi. È l'ennesima storia, quella che vi raccontiamo, di stalking registrata in regione e in provincia di Teramo in particolare. In seguito ad un'indagine effettuata proprio dalla procura di Teramo diretta da Antonio Guerriero in collaborazione con i carabinieri della stazione di Martinsicuro, ieri sera è stato arrestato un uomo del posto di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. In alcuni casi le minacce erano inviate attraverso dei messaggi audio. Altre volte, come in questo caso, con video attraverso l'applicazione di messaggistica Whatsapp, accuse pesanti nei confronti dell'uomo e nei confronti del quale è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Andiamo all'Aquila. Primo consiglio comunale per il sindaco Biondi e la maggioranza di centrodestra che tornano alla guida della città dopo i dieci anni dell'era di centrosinistra con Massimo Cialente. Il neosindaco ha giurato davanti alla città. Il servizio è di Daniela Rosone. Primo consiglio comunale dell'era Biondi oggi a Villa Gioia. Il giuramento del sindaco e l'emozione come al primo giorno di scuola. In realtà, ha ricordato il neosindaco, il nostro lavoro è iniziato all'indomani delle elezioni. Questa città ha bisogno di tante risposte e questa fascia che io oggi mi vorrei indossare è una fascia portata da tutti. Una grande emozione, un grande onore ma soprattutto una grande responsabilità. Fuori da queste alue c'è una città viva, pulsante, che soffre, che spera e che si attende delle risposte anche in tempi relativamente brevi. La situazione naturalmente è complessa, ci sono tante difficoltà, non abbiamo la bacchetta magica, dobbiamo ancora prendere possesso di una macchina amministrativa che va riorganizzata, però lo stiamo facendo dal primo giorno, lo faremo con grande passione, con grande impegno e con grande onestà. Si rivede intanto il crucifisso in aula. Anche il consigliere straniero nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della condivisione. Lo ha deciso la città, in realtà il crucifisso è un simbolo identitario importante, è un simbolo che non deve dividere ma che deve unire e se avete ascoltato il discorso attentamente il discorso del consigliere straniero avrete anche sentito che ha detto che la convivenza si fa attraverso la condivisione delle regole. Roberto Tinari intanto è il nuovo presidente del Consiglio Comunale con 21 voti a favore, 11 scade bianche e una nulla con i vicersi, la lancia e Angelo Mancini. Ma sì, l'emozione è sempre, quando si parla della mia città c'è sempre queste emozioni, l'ho avuta io, l'ho avuta anche il sindaco e credo che l'abbiano avuti anche tutti i consiglieri comunali, compreso gli assessori, quindi è un ruolo di grande responsabilità che spero di portare avanti nel migliore dei modi. Lei ha assicurato che ci sarà sempre una dialettica positiva da entrambe le parti, costruttiva soprattutto per la città? Ma certo, questo è l'elemento essenziale, dobbiamo essere uniti perché come ho detto già in aula, i nemici di questa città non sono sicuramente in quest'aula, sono fuori. E rimanendo sempre all'Aquila, invece nel centro-sinistra è in corso ovviamente un vero e proprio dibattito interno per il grande sconfitto. Americo Di Benedetto, candidato sconfitto proprio da Pierluigi Biondi, sarà un'opposizione ferma ma garbata. Vediamo. Lo sconfitto alle elezioni amministrative Americo Di Benedetto si è di oggi sui banchi dell'opposizione dopo le dimissioni per incompatibilità dalla presidenza della Gran Sasso Acqua. Sarà un'opposizione garbata ed elegante, dice, ma ferma. Un'opposizione sicuramente non corporativa ma neanche consociativa, un'opposizione che guarderà il bene della città e il primo passo per il bene della città è quello del controllo e dell'attenzione sugli atti che verranno prodotti e anche una grande volontà propositiva del bene della città e anche difendere le esigenze reali, quelle importanti, quelle su cui bisogna fare delle battaglie insieme e su questo noi non ci tireremo indietro. Abbiamo una grande voglia di incominciare a lavorare, lo abbiamo detto in campagna elettorale e sarebbe assurdo non farlo adesso. La verità, quella certa, incontrovertibile, quando è tale è la prova di resistenza nelle sconfitte e non nella vittoria. Quindi noi dimostreremo che i principi che abbiamo portato avanti in campagna elettorale saranno riportati in consiglio comunale e faremo con il garbo e la delicatezza che ci contraddistingue le nostre azioni con fermezza, determinazione ma anche una grande voglia di far ripartire la nostra città perché ancora fragile sicuramente merita un futuro migliore. Intanto nella coalizione c'è un dibattito interno in corso. Non si possono negare i problemi e le diversità che probabilmente hanno anche portato ad una sconfitta dopo che la vittoria sembrava invece certa il primo turno. Ma bisogna essere uniti, dice di Benedetto, e lavorare per il bene della città anche riorganizzandosi. Avete già fatto tante analisi del voto quindi non ci torniamo. Un centro-sinistra che esce con qualche malumore e qualche mal di pancia. Com'è la situazione nella coalizione adesso? Stiamo discutendo più da un punto di vista politico ma per far sì che una volta chiusa la discussione ci siano le condizioni per far bene il lavoro che noi dobbiamo portare avanti. Ne siamo consapevoli, ci sono delle differenze che come abbiamo detto nel momento in cui affrontavamo la campagna elettorale devono unirci, non dividerci. ma bisogna anche cercare di capire gli equilibri interni all'azione di controllo e di vigilanza che dobbiamo fare per poi il giorno dopo aver trovato il giusto punto di incontro lavorare, lavorare per il bene della città, lavorare per i cittadini che sono stati molti che ci hanno votato sia al primo turno che al ballottaggio e cercare di ricevere da loro le stanze e portarle in consiglio comunale e fare nel miglior modo possibile il nostro lavoro. Cambiamo argomento adesso, parliamo di raccolta differenziata. Bene Giulianova, Male, Pescara e L'Aquila. La raccolta differenziata in Abruzzo, seppur in trend positivo dall'anno 2014 ad oggi, sconta ritardi nel porta a porta e nell'impiantistica. La regione Abruzzo è comunque tra le migliori del sud Italia. Alfredo Primante. Su 305 comuni abruzzesi, meno della metà, cioè 139, hanno superato il 65% di raccolta differenziata che è l'obiettivo minimo previsto dalla legge, ma soprattutto tra i 139 non figurano comuni importanti dal punto di vista demografico come Pescara, L'Aquila, Montesilvano, Suduona e Città Sant'Angelo. Questa è in estrema sintesi la fotografia del 2016 della raccolta differenziata in Abruzzo che comunque fa segnare una crescita del 3,4% rispetto al 2015, attestandosi a quota 52,70%. Bene la raccolta dell'organico sopra la media nazionale, così come quella della carta. Nei comuni che restano al palo sotto il 35% pesa la mancata implementazione del porta a porta, anche se in alcuni municipi, vedi Montesilvano, si sta organizzando proprio in questi mesi estivi. Tra le punte di diamante nei comuni grandi Giulianova con il 70% di differenziata, tra i piccoli Casteldieri in provincia di L'Aquila con oltre il 90% di rifiuto differenziato raccolto. Il dato che noi abbiamo rappresentato e preso già dall'osservatorio in questi primi 4 mesi del 2017, ancorché parziale, è un dato che comunque ci induce a proseguire sulla strada di intraprese perché dimostra ulteriormente come la crescita si confermi. Quindi se per esempio al di sopra dei 20 mila abitanti non ci saranno solo più città come Giulianova con il 70% di raccolta differenziata, Roseto con il 69%, Avezzano con il 67%, ma si inizierà a parlare anche di centri dalla diffusa densità abitativa e questo dato continuerà a crescere ulteriormente. Dobbiamo fare di più, dicono dal Dipartimento Rifiuti della Regione. Solo 7 dei 50 comuni finanziati per l'implementazione dei centri del riuso hanno terminato il liter burocratico. C'è di tempo altri 30 giorni, poi i fondi non utilizzati saranno rimodulati anche per l'avvio della tariffa puntuale per premiare, cioè chi ricicla più e meglio. L'Abruzzo sconta un ritardo sull'impiantistica che la Regione sta cercando di colmare, si è detto in conferenza stampa, anche per scongiurare l'inceneritore previsto dal Governo e per spingere sull'economia circolare. Denunciare la condizione di criticità in essere presso l'UTR di Montorio Alvomano in merito alla situazione di stasi totale delle pratiche inerenti il Sisma 2009 a cui si aggiunge il Sisma 2016, è stato questo l'obiettivo della conferenza stampa organizzata proprio a Montorio Alvomano con i vertici degli uffici per la ricostruzione. Ascoltiamo Paolo Esposito, responsabile ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di Fossa. La situazione è molto chiara per quello che ci riguarda. Montorio non aveva molte pratiche perché non erano firmati i piani di ricostruzione del territorio. I piani sono arrivati alla firma e concluderemo anche Montorio nei prossimi giorni, entro fine luglio o i primi d'agosto. Nel frattempo noi avevamo trasferito delle pratiche dall'Aquilano sul Terramano perché avevamo uffici con molti carichi di lavoro e quindi con il principio di solidarietà fra uffici questo ufficio ha dato la disponibilità ad occuparsi di alcune pratiche dell'Aquilano. È chiaro che ora con l'arrivo delle pratiche del Terramano, con la problematica dei fuori cratere probabilmente decideremo di non trasferire più pratiche dell'Aquilano e di concentrarci su quelle del Terramano. In questo momento ci sono circa 50 pratiche in lavorazione per un controvalore che sfiora ai 50 milioni e mi hanno aggiornato, proprio in questi giorni usciranno 2 o 3 milioni di ammesso a contributo. Quindi in momento necessario di chiarimento definiamo ruoli e compiti e andiamo avanti perché la ricostruzione in questo territorio anche per gli eventi successivi non deve assolutamente rallentare. Lavoriamo con ufficio speciale da 5 anni sul nostro sito, trovate anche i tempi che noi stimiamo sulla ricostruzione. Di questi 56 comuni ne abbiamo qualcuno che è già al 60% e che fra 3 anni ha finito, ne abbiamo qualcuno che è al 10-20%. Ora dobbiamo lasciar correre quei comuni che stanno avanti e dare una mano a quelli che sono rimasti indietro ed è l'obiettivo dei prossimi mesi. Abbiamo avuto degli stop and go, anche il mio ufficio, anche io sono stato fermato 2-3 volte senza contratto e senza stipendio ma non ci siamo mai fermati e non mi sono mai fermato. Oggi daremo informazioni sugli oneri stipendiali del 2016 e del 2017. Consiglio comunale straordinario ieri a Pianella in discussione lo stato della viabilità del territorio con particolare riferimento all'interruzione della strada provinciale 20 tra Pianella e Loreto a Prutino sotto accusa la regione che non si è attivata per stanziare fondi per il ripristino del tratto franato. Il servizio è di Vestina News. Purtroppo la problematica si aggrava di giorno in giorno e l'assenza ad oggi di soluzioni immediata disponibilità almeno ad affrontare il problema non se ne sono avute. Il ruolo istituzionale ci impone di convocarlo questo Consiglio straordinario, di cercare di portare a ragionare attorno al tavolo della politica le istituzioni, confrontarsi dinanzi ai cittadini e dare la dimostrazione che la politica c'è, che non ha paura ad affrontare i problemi, ha le capacità e la determinazione per risolverli. Oggi è una presa d'atto istituzionale del problema, sarà un modo per fornire risposte che però si sostanziano con cifre che qualcuno ci deve mettere o dobbiamo cercare di convincere a mettere soldi per aprire immediatamente questa strada, all'inizio almeno per il transito veicolare e anche poi per i mezzi pesanti. Speriamo che vengano gli esponenti del Partito Democratico che oggi governano sia la regione che la provincia e si vengano ad assumere qualche responsabilità. È un'emergenza, noi abbiamo visto quanto interessa a loro, in un minuto si trovano 7, 8, 9 milioni di euro. Nel Consiglio scorso abbiamo trovato 5 milioni di euro per Saga, 3 milioni e mezzo per la ristrutturazione di alcune società controllate, in 5 minuti l'hanno trovato loro maggioranza. Qui secondo me ci serve meno di un milione di euro per mettere a posto questa strada per bisogni prioritari della nostra cittadinanza. Allo stato attuale noi siamo riusciti semplicemente a raccimolare alcune migliaia di euro, circa 40 mila, per tamponare se è possibile alcune situazioni e ci attiveremo successivamente a trovare altri tipi di risorsa. Non nego che effettivamente l'ente che dovrebbe sostenere attivamente questa situazione è la regione Abruzzi in questo momento, che è l'organo più vicino alle nostre realtà locali. L'abruzzese Filippo Lucci nell'Assemblea a Roma è stato, di qualche giorno fa è stato eletto presidente nazionale dei Corecom italiani, un riconoscimento per la nostra regione, che guiderà il cambiamento nel sistema delle comunicazioni. Presidente Lucci, innanzitutto complimenti perché lei si conferma a capo dei Corecom nazionali. Se vogliamo, questo è un riconoscimento in generale per la nostra regione, al vertice dei comitati per le comunicazioni nazionali. Sì, è un riconoscimento all'Abruzzo, al lavoro di una squadra, a un comitato che si è distinto negli anni per grande capacità di innovazione, ma grande capacità anche di impegno, di lavoro, di accoglienza e anche di creatività, se vogliamo. Quindi veramente una bella soddisfazione, che oggi ci pone al centro del dibattito nazionale sulla comunicazione, che ci vede anche protagonisti delle importanti riforme che sono in corso di elaborazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, presso l'Autorità Garante per le Comunicazioni. Noi ce la metteremo tutta, come abbiamo fatto già in passato. Quali sono le sfide da qui, nel prossimo futuro, per la comunicazione e non solo? Intanto per quanto ci riguarda il rinnovo dell'accordo quadro Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico e Agicom. È una sfida importante perché lì dentro quello sarà il continitore della sfida tecnologica del Paese, sia sulla banda larga, ma sia sulle nuove problematiche, le nuove opportunità. Parliamo di cyberbullismo, web reputation, formazione dei genitori, degli insegnanti e soprattutto dei giovani, perché oggi noi diciamo sempre informare non vuol dire soltanto comunicare, non vuol dire soltanto informare i cittadini, ma sempre più crescita, lavoro, sviluppo, trasparenza e capacità di fare innovazione e di rinnovarsi. Come sta l'informazione abruzzese? È un momento di grave crisi economica e anche di capacità di rinnovarsi, di fare squadra, di fare anche rete e soprattutto di investire sulla qualità, sui professionisti. I contratti sono sempre più deboli, sono sempre più rari tra i colleghi giornalisti, tra i tecnici. Quindi è un momento sicuramente di difficoltà per chi vuole fare informazione. Ci sono pochissimi gruppi che investono. E devo dire anche sul lato dell'innovazione tecnologica, ci sono pochissimi investimenti pubblici, ma soprattutto pochissimi privati. Quindi è un momento veramente di grave difficoltà dal quale non riusciamo ad uscire proprio a causa della mancanza di investimenti, cioè mancano le risorse e anche la capacità di saper raccogliere le nuove sfide che le nuove tecnologie hanno messo in campo e che potrebbero essere invece proprio un'opportunità nuova, piena, ma bisogna mettere in campo le professionalità e le economie necessarie. Presentata questa mattina in provincia Pescara dalle amministrazioni comunali di Città Sant'Angelo e Nicolosi la manifestazione dall'Etna al Gran Sasso, che si svolgerà proprio nel centro angolano da domani fino al prossimo 23 luglio. È forse l'appuntamento principe dell'estate di Città Sant'Angelo, parliamo ovviamente della manifestazione dall'Etna al Gran Sasso, 14esima edizione. Sindaco Florindi, un appuntamento imperdibile a questo punto. La più antica ed è quest'anno alla 14esima edizione con tantissime novità. In maniera particolare nei fini settimana vi ricordo le magiche notte dei Mazzmarill nella parte vecchia del Casale. Ci sono novità sotto il punto di vista enogastronomico, novità sotto il punto di vista delle attrazioni, anche con un angolo riservato alla pizzica salentina. E in più la novità più importante è che quest'anno abbiamo il nuovo sindaco di Nicolosi, il dottor Angelo Pulvirenti, amico già di vecchia data, che fa il suo battesimo a Città Sant'Angelo. Un binomio vincente Città Sant'Angelo-Nicolosi nel segno delle tradizioni e dell'enogastronomia. Sì, un binomio vincente che è nato ormai da tanti anni sotto la protezione altissima di Sant'Antonio di Padova e anche dall'unione di queste due meravigliose regioni come la Sicilia e l'Abruzzo. Sindaco di Nicolosi, all'esordio per quanto riguarda questa manifestazione, due città, Città Sant'Angelo e Nicolosi, lontane geograficamente ma più che mai vicine oggi. Certo, vicine nello spirito del gemellaggio stesso. Io già sono venuto in verità qui a Città Sant'Angelo nelle vesti di consigliere. Ho apprezzato l'importanza di questa manifestazione e soprattutto le ripercussioni che ha sul territorio. E quindi da primo cittadino ora mi vedo impegnato sicuramente nel continuare l'importanza di questa manifestazione per le comunità nicolosite e dei città Sant'Angelo che sicuramente beneficiano di queste stesse manifestazioni. Un'estate alla riscossa è l'invito dell'Arci Teramo che organizza una serie di festival estivi all'insegna del rock per ricordare a tutti che il territorio teramano resiste ed è vivo. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Un'estate di riscossa proseguono gli appuntamenti della rete dei festival estivi dell'Arci Teramo. Prossime tappe a Roseto, Tossicia, Colledara e Torano Nuovo. Quattro eventi che vogliono diventare motivo di riscossa appunto di un territorio e della sua comunità. E questo è l'obiettivo della rete dei festival indipendenti Teramani. Quest'anno questa creatura nuova perché di fatto è il secondo anno dopo l'inverno e quello che abbiamo passato era obbligatorio riproporla in qualche modo. Però abbiamo voluto tematizzarla come un'occasione per ribadire come i nostri territori si chiamano territori di cultura resistente e quindi una scossa nuova da ridare al territorio in particolar modo all'entroterra Teramano che è stato duramente colpito. Quindi con le associazioni, con l'intera organizzazione provinciale ci siamo adoperati da subito per costruire un programma che è fatto di 5 festival, 13 appuntamenti con 35 gruppi coinvolti tra chi apre e chi non, proprio per ridare un'opportunità nuova e anche una cartolina diversa perché grazie alla caratterizzazione delle singole associazioni ci sono festival molto eterogeni che spaziano tra tutti i generi musicali. Quindi una proposta di visitare il nostro territorio, di conoscerlo con l'occasione appunto di avere un cartellone parallelo di iniziative distribuite dalla costa fino al mare. Ringraziamo chiaramente il bacino in brifero montano che ha individuato in questo progetto oltre a tutti quelli che già sostiene da molti anni una ulteriore occasione in questi comuni che sono coinvolti per promuoverli e anche per sostenere le attività associative che sono dei presidi di democrazia fondamentale e di partecipazione. Natura e spiritualità negli eremi più belli della provincia dell'Aquila dal 15 luglio al 30 settembre. Il progetto è dell'Accademia delle Belle Arti del Capoluogo. Eremi arte, percorsi tra arte, natura e spiritualità. Un progetto giunto alla sua seconda edizione che è volto alla riscoperta dei luoghi storici legati alla spiritualità dei rumitaggi dell'Appennino centrale per rendere attuale il messaggio universale di spiritualità, ecologia e civiltà radicato nell'identità del territorio abruzzese. Tutto questo dal 15 luglio sino al 30 settembre 2017. Sta rinaugurato il prossimo 15 luglio presso l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Badia, sul Mona, infatti, la seconda edizione di Eremi Arti. È organizzata dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Dieci artisti internazionali a cui si aggiunge l'installazione permanente del grande maestro scomparso nel 1986, Joseph Beus, a Santo Spirito a Magliella, Rocca Morice. Si sono confrontati in queste ultime settimane con altrettanti eremi, realizzando opere site specifiche che dialogano con i luoghi e con la loro storia. Ogni artista, al termine del suo lavoro, ha incontrato le persone del luogo e ha voluto dialogare con loro per renderle protagoniste e principali portatrici di questo messaggio incontro tra una spiritualità senza tempo e il linguaggio dell'arte contemporanea. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è l'unica accademia a livello regionale, quindi assume delle iniziative a livello territoriale in modo da creare un'enfasi sulla propria attività e quindi diventare un attrattore per i ragazzi che vogliono iscriversi ai nostri corsi di laurea, che offrono delle buone opportunità di lavoro. L'iniziativa di Arremo Arti sta assumendo anche un rilievo di carattere internazionale con la partecipazione di moltissimi artisti che hanno trovato entusiasmante la proposta formulata di combinare le loro iniziative artistiche dell'arte contemporanea con dei luoghi di straordinario fascino religioso e mistico. In questa seconda edizione di Eremi, percorsi tra arte, natura e spiritualità, si rafforza la volontà di far conoscere la storia, la tradizione, l'ambiente e il fascino del territorio abruzzese, dove le testimonianze del romitaggio legate alla figura di Pietro Damorrone, ma non solo, sono parte essenziale della sua identità, ma anche una tappa fondamentale di un percorso incentrato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale. Attraverso le pratiche artistiche, ha dichiarato il direttore dell'Accademia Marco Brandizzi, ideatore di Eremi Arti, è possibile dar vita a una rete di suggestioni e stimoli, capaci di suscitare nei partecipanti al progetto e nei visitatori, la rilettura del messaggio spirituale di questi Eremi, più o meno remoti. E apriamo adesso la pagina dello sport, questa mattina presso il convitto d'annunzio illustrata alla nuova campagna abbonamenti del Pescara, previste agevolazioni per i vecchi abbonati, vediamo il servizio. Francesco Troiano, vogliamo parlare un attimo nel dettaglio della nuova campagna abbonamenti del Pescara, diciamo subito che conviene davvero abbonarsi per la prossima stagione, prezzi bassi, ci sarà la possibilità di seguire tutte le 21 gare casalinghe del Pescara allo stadio triatico? Sì, fondamentalmente abbiamo mantenuto gli stessi prezzi di due anni fa, ritoccati leggermente, poiché abbiamo appunto, ci siamo anche allineati con i prezzi dei biglietti rispetto alle altre squadre e a quello che ormai gli stati italiani offrono. Per il resto appunto la convenienza resta comunque altissima, perché i prezzi sono comunque tra i più bassi del campionato e come ho spiegato prima appunto anche la Curva Sud è tornata disponibile per 21 eventi, quindi abbiamo tutto lo stadio a disposizione per i nostri tifosi. Partirà il 18 di luglio e fino al 30 luglio ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati? Sì, partiamo il 18 a mezzogiorno e fino al 30 luglio sera abbiamo la prelazione dedicata agli abbonati su quale appunto possono confermare il proprio posto, mentre la scontistica per loro la manterremo comunque fino al termine della campagna abbonamenti. Poi ci saranno le consuete agevolazioni, i consueti abbonamenti, biglietti ridotti per alcune categorie di tifosi? Sì, poi aggiungo che partirà il 31 mattina la vendita libera e le riduzioni le abbiamo confermate come tutti gli anni, donne under 18 per 60 e diversamente abili. L'altra novità è che da quest'anno abbonamenti e biglietti della Pescara Calcio verranno venduti, verrà gestita la vendita dalla Ticket One? Sì, diciamo precisamente che abbiamo ampliato la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento a tutta la rete Italia di Ticket One, quindi circa 1000 punti vendita. In più abbiamo aperto nella sua completa totalità la campagna abbonamenti sul web, sul sito di TicketOne.it, quindi non sarà più possibile soltanto rinnovare l'abbonamento ma anche sottoscrivere l'ex nome. In più per i biglietti abbiamo la novità del passbook allo stadio dove sarà possibile entrare mostrando semplicemente il biglietto dal proprio telefonino o in home ticketing stampando a casa il biglietto. Chi ci sarà l'anno prossimo nelle fila del Pescara? Il neo bianco-azzurro Andrea Palazzi, arrivato in prestito dall'Inter, reddoci dalla buona annata a Vercelli. Il centrocampista è pronto ad essere protagonista in questa stagione agli ordini di Zdenek Zeman. Le prime impressioni sono buonissime, il gruppo è eccezionale, ci sono alcuni ragazzi giovani che hanno appena preso, ragazzi che sono tornati dai presti, i più anziani che ci danno un sacco di consigli sia dentro il campo per come comportarsi fuori. Mi sto trovando bene, gli allenamenti sono duri, lo sapevamo, stiamo faticando tanto, però sono sicuro che poi più avanti ci ritroveremo tutto e speriamo che serva comunque a far bene. Sì, ho iniziato da piccolo, giocavo attaccante, come un po' tutti, poi pian piano mi hanno tirato indietro e sono finito a fare il centrocampista mediano, l'anno scorso ho fatto sia il play che la mezzala, ho fatto metà partita di play e metà mezzala, mi trovo bene in tutti e due i ruoli, ho un po' tutte e due le fasi, in fase di possesso, di non possesso, però penso che quest'anno comunque quando il mister deciderà di farmi giocare comunque giocherò mezzala, penso. È stata una scelta naturale perché comunque l'anno scorso ho giocato, vengo da due anni praticamente fuori, il primo anno ho giocato poco a Livorno, è stato un anno difficile anche per la squadra, la società che si ha retrocessi, ho giocato poco, è stato un anno negativo, però mi ha insegnato tanto, l'anno scorso me lo sono ritrovato, ho fatto bene, ho giocato praticamente tutte le partite titolari, a parte qualche infortunio squalifica, vabbè, e quest'anno volevo alzare un po' l'asticella, volevo andare in una piazza importante, una piazza come Pescara, una tifosilia come Pescara, che reputo da Serie A e ho fatto questa scelta naturale. Poi quando la squadra che allena Zeman ti chiama a 21 anni, in pochi secondo me rifiutano, perché comunque può essere uno slancio per la carriera molto importante. Parla molto poco, quindi è stata una buona impressione, comunque è un'icona del calcio, della Serie A, del calcio italiano in generale, comunque sì, lo vedo da tanti anni, mi hanno parlato molto bene del suo lavoro con i giovani e non ho esitato a dire subito sì a questa società. Parliamo di calcio a 5 adesso, squadra già fatta in vista della prossima stagione, il Pescara si prepara ad una nuova annata con fiducia in attesa di conoscere le motivazioni della dura squalifica per preparare poi un successivo ricorso al giudice sportivo. No, solo tranquillizzare tutti perché la squadra ormai è fatta, stiamo soltanto definendo gli ultimi dettagli per annunciare gli ultimi acquisti, però comunque sarà anche quest'anno una squadra molto forte che cercherà di raggiungere tutti gli obiettivi di questa stagione e soprattutto quello di fare bella figura in Coppa dei Campioni perché avevamo tanta voglia di ritornarci, ci siamo riusciti a tornarci e cercheremo di fare bella figura malgrado un girone, purtroppo che ci è capitato, non di ferro di più, il più difficile di tutti, però comunque se vuoi andare avanti è giusto che ti devi incontrare e battere le squadre che sulla carta dovrebbero essere più forti di te. Ci proveremo, ci proveremo sicuramente, adesso abbiamo anche questa bella notizia perché comunque siamo stati invitati in questa manifestazione, ci hanno chiesto se avevamo voglia di fare la presentazione alla città della nostra squadra per l'anno prossimo e noi abbiamo risposto chiaramente con tantissimo entusiasmo. Ci sarà questo problema di dover giocare diverse partite del campionato della stagione a porte chiuse, ci sarà un ulteriore ricorso, ci potrebbero essere novità per un'ulteriore riduzione di questa squalifica? Sì, stiamo aspettando ancora le motivazioni, appena arriveranno le motivazioni possiamo vedere se è possibile fare ricorso, su quali basi, però ad oggi non sono ancora arrivate ma faremo assolutamente ricorso perché non la consideriamo assolutamente una decisione giusta, perciò è chiaro che ricorreremo fino all'ultimo momento e in tutti i modi possibili a questa decisione scellerata. Prima di chiudere, un news di ciclismo perché andiamo a vedere quelle che sono le line-up, le formazioni delle due squadre abruzzesi che parteciperanno alla classica pescarese di domenica. la classica pescarese di domenica, questa è la Fantini, Nippo, De Rosa che schiera Canola, De Negri, Santoromita, Baggioli, Marangoni, Berlato, Coisci e Bisolti. Per la GM Europa Ovini ci saranno Ruscetta, Brogi, Tizza, Di Sante, Parrinello, Pacchiardo, Rotondi e Canepa. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale, vi ricordo la terza edizione alle ore 23. Questa sera per il momento è tutto, buona serata. Grazie. Grazie.